Accogliamo Francesco con gioia e gratitudine, ma quel che ci apprestiamo a vivere non è un grande spettacolo, scrive oggi ai palermitani il loro arcivescovo Monsignor Lorefice, a 33 giorni dalla visita di Bergoglio alla città. Sarà un'opportunità per tutta l'amata e martoriata Sicilia di rinnovato impegno nella conversione continua e nella condivisione appassionata della parola di Dio. Proprio quel che caratterizzò, aggiunge Lorefice, l'intero ministero di padre Pino Puglisi. Non è un caso infatti la data scelta da Francesco per recarsi a Palermo, 15 settembre, 25 anni esatti dopo il brutale assassino di Don Puglisi 1993. La sua colpa era solo avere sfidato a viso aperto lo strapotere mafioso su Brancaccio, la sua parrocchia. Perciò fu ucciso in odium fidei, per odio cioè verso la fede che visse e testimoniò senza mezze misure, di cui la beatificazione come martire cinque anni fa e ora l'omaggio di Francesco, che dopo aver speso condanne senza appello per la mafia, visiterà di persona parrocchia e casa di Don Puglisi a Brancaccio. Prima in mattinata il programma dice messa al Foro Italico, nel pomeriggio incontri col clero in cattedrale e coi giovani a piazza Politeama, nel mezzo pranzo con poveri carcerati e immigrati alla missione Speranza e Carità di fratel Biagio Conte. Il peccato non è mai privo di conseguenze sociali, scrive l'orefice, perciò Francesco esorta ci vuole chiesa in uscita, lì dove abitano gli scartati della terra, dove stanno le vittime delle ingiustizie umane e dei poteri carsici e mafiosi.